Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Apriamo con la cronaca e con l'incendio divampato allo stabilimento della Richetti a Sant'Atto di Teramo, la nota azienda produttrice di fette al latte e di biscotti al latte, con il tetto di Ethernet che tra le altre cose ha preso fuoco, un incendio di vasta dimensione. I sindaci della Vallata che sono in attesa dei primi risultati dell'Arta prima di emanare delle ordinanze, intanto restano senza futuro occupazionale 150 lavoratori. Tania Bonici Castelli 150 lavoratori e la maggior parte donne, da oggi senza lavoro, attoniti davanti alla loro fabbrica che brucia. Siamo qui a Sant'Atto, a Teramo, davanti alla Richetti, un'azienda che produce fette al latte, biscotti al latte e che è ridotta a un cumulo di macerie. Ho dato tutta la mia vita qua dentro, tutta in famiglia, ho lavorato come una mula, capito? Ecco qua, purtroppo, le riservo quando ho visto il suo disastro, guarda, è venuta la pella d'occhio. Chi l'ha avvertita? Eh? Chi l'ha avvertita? Mi ha avvertito un collega a me, che io abito qua dietro. Che lei ha detto? Niente, ha detto viene che la fabbrica nostra sta ad andare a fuoco, è venuto qua, mi ha fermato là perché il carabiniere non ci ha fatto passare, le fiamme arrivano su sopra. 150 lavoratori, come potranno essere tutelati adesso che sono rimasti senza lavoro? La proprietà ha un altro opificio qui vicino, a circa 100 metri, vediamo quanti ne possono assorbire in quell'azienda, e altrimenti chiederemo all'azienda di aprire per tamponare l'emergenza la cassa integrazione ordinaria che è prevista per queste situazioni. Il tetto è di Eternit e rappresenta veramente un grande pericolo, i sindaci della vallata sono in riunione, sono in attesa dei risultati dell'Arta per eventuali ordinanze. Secondo lei com'è successo? Non lo sappiamo, nessuno ci dà spiegazioni in questo momento. Da quello che dicono le persone che erano presenti, sembrerebbe partito dall'esterno l'incendio, però ancora non c'è niente di certo. Ma doloso? Non lo sappiamo ancora. Della Ricchetti resta salva una cella frigorifera di circa 1500 metri quadrati, dalla quale stanno portando via i prodotti finiti. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme altissime che sembrano essersi sviluppate dal magazzino degli imballaggi. Il fumo e l'odore di plastica bruciata si avvertono a molti chilometri di distanza dal nucleo industriale di Sant'Atto e la nube si sta spostando verso la costa. C'è disperazione nei volti dei lavoratori che nonostante l'aria irrespirabile restano immobili dinanzi ai cancelli della loro fabbrica distrutta. Gli agenti del commissariato di Atri e della squadra mobile di Pescara hanno tratto in arresto nella giornata di ieri un 32enne palestinese senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti e furto. L'uomo rintracciato nei pressi di un supermercato di Silvia Marina era ricercato per il tentato omicidio di un quarantenne marocchino che il due giorni scorso a Marina di Città Sant'Angelo era stato affrontato dal 32enne il quale dopo aver infranto due bottiglie di vetro le avrebbe utilizzate per colpire al petto il quarantenne. Il 32enne si sarebbe accanito sul marocchino perché ritenuto colpevole di aver dissuaso, allontanandolo, un minore intenzionato ad acquistare stupefacente dal palestinese. La procura della Repubblica di Pescara sulla base degli elementi provatori prospettati dagli investigatori ha chiesto e ottenuto dal GIP un provvedimento cautelare di custodia in carcere che appunto è stato eseguito ieri. E ora cambiamo pagina, parliamo di politica e torniamo sull'esito dei ballottaggi di domenica scorsa ascoltando il punto di vista del sottosegretario alla giustizia e il leader abruzzese di Alternativa Popolare, Federica Chiavaroli. Senatrice Chiavaroli, sono passate poche ore dai ballottaggi, qual è il suo giudizio su questa vittoria netta del centro-destra in Abruzzo? Ma io sono molto contenta dei risultati elettorali, Alternativa Popolare in Abruzzo è sempre stata nelle coalizioni di centro-destra, noi abbiamo partecipato a tutte le competizioni elettorali sin dalla nascita del nuovo centro-destra in Abruzzo in coalizione con il centro-destra e quindi anche in questa tornata siamo molto soddisfatti perché abbiamo ottenuto dei grandi risultati prendendoci città importanti come l'Aquila, come Avezzano nelle quali non solo ha vinto il centro-destra ma nelle quali c'è anche una presenza importante di Alternativa Popolare e quindi questo mi fa doppiamente piacere. Cosa significa a livello politico questo successo del centro-destra? Ma a livello politico questo significa che bisogna presentare candidati credibili ma bisogna puntare su coalizioni allargate che abbiano sia la presenza della parte moderata, quale può essere Alternativa Popolare e quindi una presenza al centro, sia la presenza di forze che sono spostate più a destra ma che tutte insieme creano un equilibrio nella coalizione. Con gli esponenti di centro-destra sono arrivati a chiedere anche le dimissioni del governatore della regione Luciano D'Alfonso, il suo pensiero? Ma io credo che in Italia bisogna fare come in tutti gli altri paesi d'Europa e cioè che chi vince le elezioni governa per cinque anni, alla fine del proprio mandato viene giudicato dagli elettori perché bisogna dare anche la possibilità a chi vince le elezioni di avere il tempo necessario per fare l'attività che ha pensato, che ha progettato. Quindi io credo che D'Alfonso debba andare avanti e nel 2019 verrà giudicato dagli elettori per quello che ha fatto, di buono oppure no, per la regione Abruzzo. E ora ci spostiamo all'Aquila, passata l'euforia post-ballottaggio è scattato il toto giunta. Andiamo a vedere alcune delle ipotesi per la composizione della squadra di governo a disposizione del neo-sindaco Pierluigi Biondi. Mentre il nuovo sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi incontrerà tutti i dirigenti comunali per far capire come lavora e fare un po' il punto della situazione, ovviamente adesso l'attenzione è concentrata sulla composizione della nuova giunta comunale ed è già toto giunta, ipotesi ovviamente che si facevano già prima del ballottaggio in un caso o nell'altro. Dovrebbero essere sicuramente assessori i noi eletti consigliere Guido Liris di Forza Italia e Alessandro Piccinini di Fratelli d'Italia. Non si sa che ruolo potrà avere Carla Mannetti, ha un'esperienza da direttore generale, potrebbe fare il direttore generale dell'ente, una nuova figura ovviamente, oppure potrebbe essere anche vice sindaco. Se la Mannetti non sarà assessore, il posto d'assessore potrebbe essere rivestito da Erzilia Lancia, che replicherebbe così un'esperienza amministrativa che ha già avuto in provincia seppur per poco. Del resto Pierluigi Biondi ha sempre detto di voler dare un posto importante alle donne. Si fa strada anche l'ipotesi di dare un posto a Sabrina Di Cosimo, alla sua prima esperienza, ma bisognerà vedere come verrà composta la giunta, dunque il condizionale è sempre d'obbligo. Dovrebbe restare fuori dalla giunta Giorgio Di Matteis, mentre potrebbe entrare in giunta Luigi Deramo. Emanuele Imprudente è uno tra i papabili, però avrebbe manifestato un non grandissimo interesse per avere un posto in giunta, preferendo piuttosto lavorare per il partito e per strutturarlo ancora meglio, anche perché già si parla di regionali 2019 all'Aquila. Potrebbe essere il presidente del Consiglio Roberto Tinari, che è stato il vice di Benedetti ma all'opposizione. Ma potrebbe tornare anche Vito Colonna, che è stato presidente del Consiglio Comunale nell'epoca di tempesta. Per quanto riguarda gli assessori, ci sono anche dei nomi che circolano, assessori esterni. Per Forza Italia potrebbe essere papabile Paolo Federico, che è stato un po' il regista della campagna elettorale di Pierluigi Biondi. Ovviamente andrà valutata anche la partita delle liste civiche, che avranno poco spazio in giunta, ma potrebbero averne uno più importante invece nelle varie commissioni. Invece l'Anatra Zoppa potrebbe abbattersi sulla vittoria del centrodestra ad Avezzano. Il sindaco De Angelis rischia di avere solo nove consiglieri di maggioranza per effetto della legge elettorale e del risultato del primo turno. Nel frattempo ieri polemiche per il cambio di serratura dell'ufficio del sindaco. Alfredo Primante. Al momento è una vittoria dimezzata quella del sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis. Il centrodestra torna alla guida della città marsicana, scalzando il sindaco uscente di centrosinistra, Giovanni Di Pangrazio, ma con solo nove consiglieri di maggioranza, almeno stando all'ufficiosità. Questo per effetto della cosiddetta Anatra Zoppa, espressione gergale, che indica la condizione per cui, secondo la legge elettorale vigente, se un gruppo di liste collegate al primo turno ottiene almeno il 50% più uno dei voti validi, mentre al ballottaggio la maggioranza dei voti per il candidato sindaco va ad un sindaco sostenuto da un altro gruppo di liste, non scatta il premio di maggioranza a favore delle liste che sostengono il candidato eletto. Nei prossimi giorni comunque è destinato a svilupparsi un lungo dibattito politico-legale sull'argomento, con il rischio che la composizione del Consiglio Comunale possa andare per le lunghe. Nel frattempo De Angelis mostra di avere le idee chiare, nonostante il rischio in governabilità. Cinque le priorità indicate dal neosindaco, riqualificare il centro città con incentivi al commercio, un nuovo piano di viabilità, il completamento del contratto di quartiere De Alla Pulcina con il progetto del nuovo municipio, la riqualificazione di Palazzo Torlonia e l'accelerazione del recupero degli edifici scolastici. Per quanto riguarda lo staff, il sindaco ha intenzione di creare una struttura leggera con l'obiettivo di recuperare risorse da destinare ad altri capitoli di bilancio. La vittoria di De Angelis è stata condita anche da un giallo sviluppatosi ieri mattina quando si è diffusa la notizia che il neosindaco avesse fatto cambiare la serratura dell'ufficio a Palazzo di Città. Di Pangrazio ha chiamato i carabinieri, ma le nuove chiavi le aveva in effetti il segretario comunale che da prassi aveva ordinato il cambio della serratura per tutelare gli effetti personali del sindaco uscente in quanto De Angelis non aveva ricevuto ancora l'investitura da sindaco della città di Avezzano. Un fatto che ha subito scatenato le polemiche, il clima in città infatti è ancora molto rovente e non soltanto per le temperature tropicali. Lasciamo la politica, semplificazione, meno burocrazia e snellimento della macchina amministrativa. Questi temi della tavola rotonda organizzata oggi a Pescara da Confindustria Abruzzo. Paolo Renzetti. Presidente, lotta alla burocrazia, snellimento delle pratiche. Si parla di riforma Madia questa mattina qui a Pescara. Le imprese, le aziende hanno grande bisogno di tutto questo? Assolutamente sì, l'Italia ha bisogno di questo. L'Italia è uno degli ultimi paesi, il terzo ultimo paese in comunità europea per l'attrattività degli investimenti stranieri. Questo è dovuto proprio al sistema burocratico che è assolutamente inefficiente e non funzionale. La riforma Madia consente attraverso ad esempio lo strumento della nuova conferenza di servizi la possibilità di chiedere il danno da ritardo, di far sì che le aziende diventino parte attiva per pretendere l'applicazione delle leggi e delle regole in termini ambientali. Non possiamo più pensare che ci sia un'autorizzazione rilasciata in tempi anticiclici rispetto all'investimento che quella autorizzazione rilascia. Cioè se per fare una concessione di vista ci mettiamo tre anni e dopo tre anni il mercato edile ha subito un crollo o se per fare una valutazione di impatto ambientale ci mettiamo 4-5 anni e il business plan ammonte di quella valutazione di 4-5 anni è chiaro che non stiamo parlando più di impresa ma di un gioco d'azzardo. Importante snellire i tempi anche perché stiamo uscendo dalla crisi le aziende e le imprese anche quelle abruzzesi devono fare i conti con una situazione, con una congiuntura ancora difficile. Sì, è chiaro che viviamo in un mondo di cambiamento il cambiamento c'è sempre stato, la caratteristica è che oggi il cambiamento è assolutamente veloce nell'arco di 5 anni cambia il mondo e quindi l'azienda deve inventarsi, crescere, maturare e poi rinnovarsi nuovamente nell'arco di 5-10 anni e quindi per far questo è necessario che ci sia una pubblica amministrazione e una burocrazia in linea con questi tempi altrimenti andiamo a fare impresa a qualche altra parte. Si parla tanto di ripresa ma questa ripresa in Abruzzo, Presidente, è davvero iniziata? C'è qualche segnale perché l'imprenditore italiano ha una grande caratteristica è quella di saper trasformare le difficoltà in opportunità ma è un'impresa frenata, è come andare con una Ferrari e tirare il freno a mano. La provincia di Teramo ripristina la provinciale 365 per Bisenti e fa il punto sull'apertura di 80 cantieri negli ultimi tre mesi per ricostruire strade e scuole. Il Presidente della Regione, D'Alfonso, intanto annuncia anche fondi per la manutenzione straordinaria delle strade terramane. Riaperta la provinciale 365 nel tratto che attraversa l'abitato di Bisenti una strada simbolo del terremoto 2017, crollata a febbraio mentre era in corso un sopralluogo dei tecnici della provincia con la protezione civile e i vigili del fuoco. Con la sua riapertura la provincia di Teramo ha voluto fare il punto sugli oltre 80 cantieri approntati in questi tre mesi dalle strade alle scuole, con i fondi della ricostruzione in collaborazione con le strutture commissariali, la Regione, la Dicomac, la protezione civile e l'ANAS. Si comincia a costruire e a ricostruire nel Terramano. Sì, almeno per quanto attiene alla parte infrastrutturale di competenza della provincia, con queste opere messe in campo che sono state una risposta concreta e anche immediata ad alcune delle tante emergenze che purtroppo scontiamo in Abruzzo e soprattutto del Terramano. Oggi abbiamo, intanto prendiamo contezza di questi 80 cantieri che sono in corso. Solo per il ripristino della viabilità danneggiata la provincia di Teramo ha già anticipato 22 milioni di euro ai quali vanno ad aggiungersi i fondi straordinari ANAS e CIPE. 80 cantieri, come cambierà l'immagine del Terramano? Intanto il Terramano tornerà ad essere in sicurezza rispetto a quanto era ridotto dopo il maltempo di gennaio e dopo le scosse di terremoto. Il Presidente della Repubblica ha detto che la più grande opera da fare in quest'Italia è quella di rammentare il territorio. Questi 80 cantieri sono un rammendo del territorio provinciale eccezionale che è stato messo in piedi da un ente, tra l'altro, in enorme difficoltà grazie alle capacità di tutti coloro che ci hanno lavorato e anche grazie a una filiera pubblica che comunque stavolta ha funzionato e sta continuando a funzionare. Noi adesso abbiamo un problema in provincia di Terramano. Noi stiamo facendo 80 cantieri con fondi speciali e abbiamo invece bisogno di aprire cantieri per fare manutenzione ordinaria delle nostre strade per far sì che quando succeda qualcosa non abbiamo gli stessi danni. Intanto il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha annunciato che l'Abruzzo chiederà al Ministro Claudio De Vincenti di anticipare i fondi per le ciclabili per destinarli all'emergenza, ad uso della manutenzione straordinaria delle strade. E a Pescara la lista Teodoro non ha votato l'approvazione del debito del Comune nei confronti del Consorzio Industriale Chieti-Pescara, lievitato a 191 mila euro. Pier Nicola Teodoro chiede conto ai responsabili di quanto accaduto denunciando che altrimenti saranno ancora una volta i cittadini pescaresi a pagare. L'argomento innanzitutto era il debito del riconoscimento e il debito fuori bilancio di circa 200 mila euro per il Consorzio. dell'area Pescara Chiedi, un vecchio debito che risaliva una quota dal 2001 a una quota del 2013. Noi abbiamo chiesto informazioni, abbiamo chiesto di avere pareri in tal senso, sono stati pareri sommari. Oltretutto ho chiesto un approfondimento sia dell'ufficio legale, ma ci sono stati pochi secondi di dibattito al riguardo, poiché si è dichiarato fuori, non essendo competente, il legale del Comune. Il dirigente di settore è venuto e ha affermato che negli anni successivi, al 2001 fino al 2017, il debito contratto nei confronti del Consorzio del 2001 non era stato mai riportato nella voce di bilancio, come debito fuori bilancio nei bilanci successivi al Comune stesso. Oggi ci siamo ritrovati a votare un debito di circa 200 mila euro. La domanda nostra è questa, ma perché oggi devono essere i cittadini di Pescara a votare un debito contratto diversi anni fa? E dove sono andati a finire quei fondi e quei soldi che servivano per pagare il debito del Consorzio? Noi a questa domanda ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, per cui il Consiglio Comunale con un voto trasversale ha votato questa delibera. Io ho chiesto ufficialmente di avere documentazione più dettagliata al riguardo di questo. Ci saranno dei professionisti del settore che mi verificheranno, studieranno dettagliatamente il tutto per poi vedere se ci sono i presupposti per poter fare un ricorso in tal senso. Anche perché dobbiamo individuare chi sono i responsabili, quello che ho sempre chiesto. Se ci sono i responsabili, l'amministrazione vada su chi ha prodotto questo debito fuori bilancio. L'Università d'Annunzio guarda l'Europa. In occasione della visita del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Unione Europea, Alessandro Gozzi, il Rettore ha parlato di importanti iniziative che coinvolgeranno l'Ateneo di Chiesi-Pescara. L'importante visita del sottosegretario Gozzi all'Università d'Annunzio. Cosa avete chiesto? Cosa chiedete al Governo ma soprattutto all'Europa? Guardi, il sottosegretario non è venuto da noi perché noi gli dobbiamo chiedere qualcosa. È l'inizio di una serie di scambi culturali che secondo me l'Università deve avere. È un inizio anche di rapporti tra le università, tra virgolette, periferiche e il Governo centrale. Quello che noi chiediamo, ripeto, è la semplificazione delle procedure. Noi siamo in grado di attrarre risorse esterne ma abbiamo bisogno di semplificazione. Si parla di laureati, di nuovi laureati. L'Italia è il paese fanalino di coda in Europa per laureati. Anche sotto questo aspetto bisognerà probabilmente lavorare e aprire un nuovo corso? Ma no, fondamentalmente dobbiamo integrarci un po' di più con l'Europa, aprire dei corsi alternativi che interessino di più gli studenti e che soprattutto servano realmente a entrare sul mondo del lavoro in maniera più agevole. Tra gli obiettivi c'è anche quello di aprire dei corsi bilingue. Sì, sì, assolutamente. Perché i nostri ragazzi sono proiettati ad andare all'estero anche per lavoro e questo è importante per loro, quindi imparare quello che imparano nei loro corsi di studi in inglese, ma è altrettanto importante per attrarre studenti dall'estero. Favorire lo shopping e il commercio da un lato e combattere lo spreco dall'altro. È la doppia anima della Notte dei Saldi organizzata per il prossimo sabato, primo luglio, dal comune di Pescara e dalle associazioni di categoria dei commercianti. In abbinamento ci sarà anche la festa per il ventennale del Banco Alimentare. Aiutare il commercio e nel contempo riflettere su come combattere lo spreco. Sembra una contraddizione in termini, invece, la doppia anima della Notte dei Saldi organizzata dal comune di Pescara in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti e con il Banco Alimentare. In programma sabato, primo luglio, nel Centro Commerciale e Naturale di Pescara, il centro città. La manifestazione dedicata all'avvio dei saldi estivi avrà un prologo venerdì pomeriggio con un convegno sulla nuova legge contro lo spreco alimentare che intende celebrare il ventennale del Banco Alimentare. Sabato sera, poi, spazio al divertimento e allo shopping con i negozi aperti fino a tardi. Un appuntamento importante concordato con le associazioni di categoria, con i commercianti, appunto, per lanciare la stagione dei saldi. Sabato, primo luglio, con diversi intrattenimenti nelle aree pedonali della città e poi ci sarà questa bella iniziativa col Banco Alimentare in Piazza della Rinascita e poi Comicon Convention che allestirà le vetrine dei negozi con i fumetti. Insomma, un'iniziativa importante per lanciare non solo la stagione con un calendario ricco di appuntamenti nella città di Pescara che proseguirà per tutta l'estate, ma anche per lanciare la stagione dei saldi che è un dato fondamentale per una città che vive di commercio come la nostra. Il focus sul centro commerciale naturale, insomma, è sempre lì l'argomento dare una mano a questi imprenditori che continuano a restare in città e a fare economia per Pescara? Sì, sicuramente. Questo è un aspetto del centro commerciale naturale. Noi abbiamo programmato e organizzato diverse iniziative nell'estate, quindi questa del notte dello shopping, ci sarà la notte bianca dell'Adriatico il 22 luglio, il 12 agosto un'altra notte dello shopping che avrà più la forma di un evento diffuso e poi abbiamo messo delle risorse importanti, 50.000 euro per la creazione del centro commerciale naturale che da un'unione di intenti diventerà una vera e propria realtà che concluderemo, insomma, entro la fine dell'estate per poi lanciarlo con diverse iniziative come il Lucid Artista per la fine dell'anno. Ed ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara. Tra oggi e domani si attende la firma del nuovo attaccante Simone Andrea Gans. Ieri intanto sono arrivate quelle dei due gioiellini di proprietà dell'Atalanta, Latte Latte e Capone. Rese note anche le date principali della preparazione estiva dei biancazzurri. Vediamo. Con le firme dei due gioiellini Atalantini, Cristian Capone ed Emanuele Latte Latte, sale a 5 il numero degli acquisti del Pescara per la prossima stagione. Anche in questo caso l'annuncio dei club è posticipato all'ingresso del nuovo anno sportivo dal 1 luglio. I due attaccanti esterni prelevati dal club aerobico arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto e sono profili ideali del 4-3 Zemaniano. E' una settimana importante comunque per il Delfino. Il presidente Sebastiani e il DS Leone sono in missione milanese in questi due giorni. Intanto per chiudere definitivamente l'acquisto dalla Juventus di Simone Andrea Gans. Nelle ultime ore è anche emerso un particolare. Era tutto fatto per il trasferimento del centro avanti all'Ascoli, ma Gans si è rifiutato di firmare e i marchigiani hanno dovuto desistere. Insomma, Gans vuole il Pescara e nelle prossime ore si chiuderà l'affare con la cessione a titolo definitivo del cartellino. Ma la missione di Sebastiani e Leone è anche imperniata sulle cessioni, argomento spinoso ma anche essenziale. Spinoso perché trovare acquirenti, soprattutto per i vari Coda, Stendardo e Bovo, è complesso. Spinoso perché anche sui giocatori più appetibili al momento non si registrano sensibili accelerazioni. Certo, nei prossimi due mesi ci potranno essere delle uscite, ma Sebastiani, oltre ad attendere l'ufficialità della cessione di Caprari alla Sampdoria nell'affare Skriniar, vorrebbe centrare almeno una cessione importante entro il 30 giugno per motivi di bilancio. Comunque ci sarà bisogno di sfoltire prima di arrivare a nuovi ingressi perché anche con i rientri dei prestiti la Rosa è extra large ed è noto che Zeman vuole lavorare con non più di 27-28 giocatori. A tal proposito sono state ufficializzate le date che scandiranno il ritiro del Pescara. Raduno nella mattina di lunedì 10 luglio al convitto Casa d'Annunzio e partenza alle ore 10 per Rivi Sondoli, nel pomeriggio il primo allenamento. Il 15 e il 19 luglio le prime uscite contro una rappresentativa locale e contro la Virtus Teramo. Il 25 luglio l'amichevole contro il Teramo di Asta, una partita che chiuderà la prima parte della preparazione estiva a Rivi Sondoli. Dopo tre giorni di riposo, il 29 luglio, la partenza per Palena per la seconda parte del ritiro. Domenica 6 agosto con la gara di Coppa Italia, il primo impegno ufficiale della stagione. Nel prossimo servizio diamo uno sguardo ai movimenti delle sei squadre di Serie D a poco meno di un mese dalla partenza dei rispettivi ritiri. Primi movimenti per le sei squadre di Serie D, attivissimi in particolare Vastese, Pineto ed Avezzano, dopo il burrascoso finale della scorsa stagione, il patron marsicano Gianni Paris si è rimesso subito a lavoro rimodellando lo staff tecnico, capeggiato dal neo di essa Antonello Cellini e dall'allenatore Umberto Marino, già tecnico del Chieti due stagioni fa, dopo le dimissioni di Donato Ronci ed ex vice di Ivo Iaconi. Sul mercato il fiore all'occhiello e l'accordo con l'attaccante polacco Piotr Branički, una garanzia per la categoria e fresco vincitore del giro di G con la maglia dell'Arzachena. Dalla Spagna sono arrivati il jolly difensivo Alan Rodriguez e il regista di centrocampo Francisco Masperes. Trattative ben avviate con due difensori in uscita dall'Agnonese, Luca Cassese e Derminio Rullo, già confermati giovani come Lombardo, Pollino, Serrago, Morgan e Denis Besana. Altro obiettivo per l'attacco il fanese Gucci. Squadra in ritiro dal 24 luglio a Caramanico Terme. Stesso giorno per l'inizio della preparazione estiva della Vastese a Bomba nel Chietino. Il patron Bolami è tornato al passato, richiamando in panchina Gianluca Colavitto, esonerato frettolosamente la scorsa stagione. Neo DS Francesco Micciola, che arriva dopo l'ottimo lavoro a San Nicolò, si riparte dai migliori giovani dello scorso anno e dalla conferma di Nicola Fiore. E poi si punterà su altri vastesi doc come il difensore Damiano Menna, ex Avezzano, e il centrocampista Cristian Stivaletta in uscita dal San Nicolò. A Pineto la confermata coppia e direttore allenatore Gianmarino Amaulo è al lavoro da un po' e ha strappato confermi importanti. Pomante, Mariani, i portieri Mazzocchetti e Giacchetta. Partito proietti, l'obiettivo è ora trattenere i vari Esposito, Fiumare e Ciarcelluti, per poi puntare a degli innesti di qualità. Riparte con un nuovo ciclo tecnico il San Nicolò, che dopo gli addi di Micciola ed Epifani e la sinergia con la Virtus Teramo, ha annunciato il Neo DS. Si tratta dell'ex Avezzano Stefano De Angelis. Tanti nomi per la panchina, Davide Ruscitti e Gigi Giervese dalle giovanili del Pescara, un profilo esperto come Roberto Cappellacci, due outsider dall'eccellenza come Pasqualino Di Serafino e Peppe Naccarella. All'Aquila, situazione al momento resa incerta dalla trattativa per la cessione delle quote sociali, tutto fermo anche se l'allenatore Battistini e il suo staff dovrebbero essere confermati a prescindere dal tir e molla societario. In casa della neopromossa Nero Stellati tiene banco la questione campo, l'impianto di Pratola non è a norma per la D e allora la matricola giocherà al Pallozzi di Sulmona, forse per l'intera stagione. Le abruzzesi in Serie D potrebbero essere sette in caso di ripescaggio del Francavilla. Dopo l'addio del patron De Vincentis, il commerciarista pescarese Vincenzo Serraiocco e al lavoro per rilevare la società e per poter presentare entro il 9 luglio la domanda di ripescaggio con grandi probabilità di positivo accoglimento. È tutto anche per questa terza edizione del TG6, il nostro notiziario torna domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.